cari amici di fano tv la più cordiale buonasera un altro approfondimento in studio per parlare di politica e per continuare a conoscere i candidati in questo caso della coalizione del centrodestra a favore della candidatura sindaco di luca serfilippi ritroviamo e salutiamo subito la nostra ospite loretta manocchi di fratelli d'italia buonasera e bentrovata grazie buonasera a tutti voi allora dico bentrovata perché questo è il secondo spazio che le riguarda inizialmente c'è stato uno speciale registrato con noi e abbiamo fatto una sorta di tour della città affrontando delle tematiche che insomma in questa sera riprenderemo però raccontiamo innanzitutto il suo impegno chi è lei di che cosa si occupa e come mai ha deciso di scendere in campo anche in questo 2024 sì io sono un avvocato e ho sempre fatto nella vita politica per passione fin da giovanissima candidandomi alle amministrative nella mia città natale che fosse un brone e dal 2003 al 2011 sono stata appunto in consiglio comunale e diciamo l'ho sempre appunto fatto per per una grande passione io credo che sia sostanzialmente un po nelle mie corde no chi si occupa di tutelare e al tempo stesso di occuparsi dei problemi delle persone quindi in via generale quindi io lo faccio per lavoro è un po' fisiologicamente diciamo viene quasi naturale occuparsi anche delle questioni delle problematiche in questo caso ecco dei cittadini di una di una città e farsi sostanzialmente portavoce è un po anche nelle mie corde sono una persona che a cui piace ecco farsi portatrice di interessi altrui un po credo che sia davvero la come dire quello che guida la mia vita nel tempo me ne sono accorta da ragazza magari poteva essere uno stimolo per apprendere cose nuove fare cose nuove oggi da persona adulta mi rendo conto che è proprio la mia natura un po nella mia anima ecco tra l'altro lei è impegnata su vari fronti e non trascuriamo perché questo anche un altro aspetto insomma di rilievo del suo curriculum vitae lei è anche vicina alle donne sì io faccio parte di un'associazione femminile la fidapa bpw italy che è una federazione internazionale di donne che si occupa diciamo di tutto quello che afferisce le donne in termini diciamo per quello che riguarda il mondo delle delle arti delle professioni degli affari ed è impegnata da un punto di vista appunto internazionale e portando le istanze anche in importanti assise come come l'onu e portando avanti davvero delle importanti battaglie io sono stata presidente attualmente sono membro del consiglio e abbiamo sempre appunto cercato io anche con la mia personalità ho cercato di dare un po impulso alla sezione con delle iniziative con un po con un metodo nuovo di aggregazione e soprattutto cercare di portare avanti delle delle battaglie in che modo arrivando con i giusti contenuti cercando di far conoscere far capire la necessità non solo attraverso il linguaggio ma anche con delle azioni concrete ottenere questa o questa questa tutela soprattutto anche in determinati ambiti dove le donne seppur affermate anche nell'ambito laborativo professionale sono discriminate pensiamo anche da un punto di vista del salario e quindi ecco diciamo che questo è stata una bellissima palestra sono è stato motivo di per me conoscere tante belle donne e di profondo arricchimento allora nello speciale precedente abbiamo toccato alcuni temi che riguardano la città di Fano a partire dalla degrado alla viabilità abbiamo fatto un tour della città abbiamo parlato del porto della zona di Sassonia e anche dello sport sono temi che sono stati approfonditi a più riprese da fratelli d'Italia cosa ha fatto il circolo in questi anni e com'è cresciuto? Sì io diciamo così nel 2020 mi è stato chiesto di prendere le redini di un circolo che sostanzialmente sostanzialmente a cui doveva essere dato impulso e doveva essere in qualche modo ricostruito dopo una breve riflessione accettai questo invito dal coordinatore regionale e iniziai questo percorso che oggi ci porta nel 2024 poi appunto a confrontarci con queste amministrative questa tornata elettorale e nel corso di questi anni io ricordo che all'inizio eravamo un gruppetto davvero di poche persone che si prefiggevano l'obiettivo ecco di ricostruire un circolo partecipato con una sede con soprattutto ecco il fatto di far fronte a tutte le tematiche che riguardavano la città e quindi fare politica in maniera attiva e ci siamo riusciti quindi nel corso di questi anni abbiamo raggiunto l'obiettivo di importante di avere 250 iscritti una sede inaugurata tantissime attività da un punto di vista politico e di battaglie che abbiamo affrontato certo ci sono stati abbiamo trattato tutti i temi perché io ritengo che un politico che si occupa di politica in via generale deve avere contezza e conoscenza di tutte le questioni che riguardano la città poi è chiaro che ci possono essere più o meno materie che si confanno un po' alla persona e che per ragioni anche di conoscenza diretta magari uno è più all'approfondimento della materia stessa però in via generale è necessario anche da un punto di vista proprio della formazione conoscere tutte le questioni che riguardano appunto il tessuto sociale e tutte le criticità della politica abbiamo portato avanti importanti battaglie tra cui quelle che oggi e che tutt'oggi ci stanno a cuore come il degrado, la sicurezza, la viabilità, il decoro urbano che determinano un po' quello che è il biglietto da visita di una città che fanno sì che quella città diventi un luogo in cui crescere i propri figli, trasferirsi, passare le proprie vacanze Fano è una città straordinaria, è bellissima, ha delle caratteristiche veramente particolari che fanno sì che sia un po' un gioiellino, al mare, le colline, il centro storico, la cultura, l'arte e quindi è chiaro che noi ci immaginiamo che questa città abbia davvero il valore che merita non perché oggi sia da buttare tutto quello che troviamo, ma un impulso nuovo davvero un po' un fiore all'occhiello della costa adriatica anche perché rappresenta, come spesso diciamo, sotto un profilo di numeri e di popolazione la terza città delle Marche Sono stati questi temi a noi tanto cari pensiamo ad esempio anche ai flash mob che abbiamo fatto per quanto riguarda i passeggi quindi il degrado che abbiamo trovato, l'incuria, bivacchia cielo aperto quindi è chiaro che il polmone verde del centro città rappresenta un po' la città e quindi quello è tuttora uno scenario che non ci piace, non ci è piaciuto lo abbiamo denunciato a più riprese, non ci siamo mai stancati di fare questo così come non ci siamo mai stancati di occuparci appunto di sicurezza oggi nel programma di Luca Serfilippi, molto attento appunto a questo tema c'è tutto un percorso che noi intendiamo fare qualora i cittadini vogliano riconoscerci appunto la fiducia di governare questa città che passa attraverso una riorganizzazione della polizia locale con un potenziamento anche di turni notturni con una formazione precipua e specifica perché possa combattersi la micro e non solo criminalità con una riqualificazione del decoro urbano che passa necessariamente attraverso l'illuminazione, maggiori telecamere con un'ordinanza che vieti il vetro nel centro e al mare proprio per far sì che ovviamente ci sia maggiore attenzione e che non possano scaturire da questo risse e quant'altro ecco diciamo poi tutta una serie di azioni mirate con un tavolo permanente per proprio far sì che quello che per noi rappresenta sicuramente uno dei temi più importanti che è quello della sicurezza possa ridare anche una certa qualità della vita a Fano e non da ultimo altri temi ce ne sarebbero tanti, dovremmo stare qui davvero ore però la riqualificazione di tutto il lungomare che va da Forso 6 ore a Ponte Sasso che passa necessariamente attraverso come a più riprese abbiamo detto la riqualificazione della Sassonia Sud con tutta quella riqualificazione dell'area degli ex GoCard con un progetto che il comitato di Sassonia Sud ha puntualmente elaborato con l'impegno da parte nostra di riperire le finanze da un punto di vista economico per la realizzazione così come la realizzazione del sottopasso che collega diciamo al centro città un altro dei temi a me cari ai quali siamo assolutamente molto attenti è il porto sappiamo bene che oggi diciamo è coinvolto da una procedura fallimentare con un curatore fallimentare è necessario coinvolgere degli imprenditori che possano formalizzare anche attraverso la guida dell'amministrazione comunale una offerta di acquisto diciamo dell'area per una importante riqualificazione che passa necessariamente attraverso uno scalo di alaggio pubblico attraverso il dragaggio d'emergenza con una cadenza annuale per far sì che le barche possano entrare e uscire in sicurezza e non da ultimo assolutamente far conoscere alla città il nostro porto la nostra cantieristica mancano davvero tante risorse da un punto di vista lavorativo da un punto di vista umano e quindi è necessario che noi ci impegniamo per poter spendere anche delle attività delle iniziative di formazione anche attraverso collaborazioni con l'università con la scuola e soprattutto far conoscere ai nostri studenti ai nostri cittadini che cosa si fa nel nostro porto e nella nostra cantieristica rappresenta indubbiamente uno dei principali se non il principale verosimilmente indotto da un punto di vista economico e che è un fiore all'occhiello che è anche un volano per il turismo ovviamente quindi ecco diciamo ci sono una serie di questioni poi senza parlare della viabilità che insomma un po' sotto gli occhi di tutti che sicuramente è un problema catenaglia la città così come i quartieri che hanno la necessaria volontà di far parte diciamo dell'amministrazione comunale partecipando in prima linea quindi con anche ricostituire quelli che sono i consigli di quartiere interagire costantemente con i cittadini che con l'amministrazione comunale possano dare davvero l'impulso di quello che sono le necessità un po' in tutta la città e farli partecipi attivi questo anche dal punto di vista della sicurezza di quelle che sono le iniziative da proporre da quelle che sono gli obiettivi principali io credo che per fare questo è necessario un metodo una visione della città unitaria e questo è un po' il mio cavallo di battaglia vivo a Fano da 11 anni e ho scelto Fano come la città in cui trascorre la seconda parte della mia vita mio figlio ha fatto dalla primina quindi ancora prima dell'infanzia tutte le scuole qui quindi io mi sono trasferita con la mia famiglia e ho sempre visto ecco questa città nella sua interezza e non come spesso ho ribadito interventi che si fanno un po' a spot è come se fosse una città quasi da considerare un po' non solo in zone di serie A o di serie B chiaro è composta di tanti quartieri ma la visione di cui parlo nella sua totalità nella sua globalità è tale da considerare innanzitutto da un punto di vista delle priorità quelle che sono le emergenze e le necessità da a cui porre rimedio e mettere mano immediatamente e poi ci sono ovviamente una scaletta che va necessariamente fatta e quindi un cronoprogramma nel corso del quale realizzare questi tipi di interventi quindi bisogna avere ecco secondo me un metodo ben chiaro e specifico che è impegnativo quindi con un è necessario studiare approfondire cercare di capire tutte le risorse necessarie per approfondire per fare questo Lei parla di un suo trasferimento a Fano ricordiamo però che in precedenza dal 2003 al 2011 lei è stata consigliere comunale nel comune di Fossombrone ce la racconta questa esperienza? Sì è stata un'esperienza bellissima mi sono candidata ero una tra le più giovani perché nel senso eletta ero con i big della politica forse impronese persone davvero capaci preparate ho fatto parte della commissione urbanistica della commissione bilancio ho fatto una scuola di formazione politica ero nelle file di alleanza nazionale quindi comunque sempre non ho mai diciamo così ho sempre seguito la corrente di quel partito e poi successivamente fratelli di passando per il PDL fratelli d'Italia e quindi rimanendo sempre ancorata e correntemente dalla stessa parte è stata sì una bella palestra ho imparato tanto e mi ha dato anche tanta soddisfazione tra i tanti temi e le problematiche insomma che lei tratta pone particolare attenzione al discorso porto nautica c'è un motivo? Sì c'è un motivo anche perché anche diciamo la nautica e tutti gli sport acquatici non solo hanno rappresentato nella mia vita anche quella una grande passione io sono vicepresidente della Liga Navale negli anni ho praticato diversi sport dalla Subacquia conseguendo dei brevetti ho conseguito un paio di anni fa il brevetto d'aiuto istruttore Vela oggi abbiamo organizzato in questi giorni diversi corsi e quindi rivolti agli adulti e ai ragazzini è anche un modo attraverso lo sport che peraltro mi ha sempre appassionato io ho giocato per tanti anni a tennis mio figlio gioca basket a tennis e credo che determini un po' una disciplina nella persona da un punto di vista non solo chiaramente della salute fisica ma attraverso attraverso la quale passa anche una salute mentale perché ti consente di rimanere fuori di lasciare fuori non so dei vizi e quindi di allontanarti un po' da una vita malsana ti determinano ecco un po' di disciplina e che credo che già da giovani da bambini ti possa indirezzare verso la direzione appunto la direzione giusta per me il mare è una gran passione e un po' anche il motivo che mi ha portato oltre ad altre scelte a vivere a Fano e molto spesso dico senza il mare non si può vivere tra i suoi impegni anche l'organizzazione di eventi sulla violenza economica sì noi abbiamo fatto diverse tavole rotonde diversi impegni non solo da un punto di vista associativo come dicevo prima per quello che riguarda diciamo la FIDAPA ma anche da un punto di vista proprio del partito infatti qualche tempo fa abbiamo organizzato grazie all'intervento del sottosegretario di Stato l'onorevole Albano una tavola rotonda che si è occupata della violenza economica una forma di violenza molto subdola che comunque costringe le donne a rimanere all'interno delle mura domestiche perché non avendo l'indipendenza economica e non potendosi permettere di uscire magari da una relazione pesante quindi con una situazione familiare che la vedrebbero magari se indipendente economicamente portarsi su altri fronti invece le impongono di rimanere diciamo legata a un uomo che le controlla magari anche le sue risorse economiche quindi un tema che abbiamo sviscerato abbiamo approfondito un tema attualissimo e che chiaramente questo credo che sia anche necessario per affrontare più temi per approfondire più temi per avere una visione a 360 gradi di tutte quelle che sono le problematiche le questioni che riguardano l'uomo e la donna in generale e questi ultimi 30 secondi li dedichiamo all'appello al voto prego sì il mio slogan è quello appunto la tua fiducia e il mio impegno per me l'essenziale è che i cittadini possano avere fiducia in me io sono una persona che si è fatta da sola che oggi ha un'esperienza ritengo di avere un metodo acquisito un metodo che ho portato un po' in tutte le cose che nella vita ho fatto e mi contraddistinguono la determinazione la coerenza e soprattutto la voglia di mettercela sempre tutta di non risparmiarsi mai di non lasciare mai niente di intentato e credo che questo possa rappresentare un valore aggiunto per un amministratore per chi per la propria città ha voglia di spendersi in prima persona in prima linea mettendoci la faccia mettendoci l'impegno e credo che se i fanesi i cittadini vogliano riconoscerci riconoscermi anche la loro fiducia davvero ce la ce la metteremo tutta quindi per votarmi sarà sufficiente barrare il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivere Manocchi grazie Loretta Manocchi per essere stata con noi grazie Riccardo Sora in regia e tutti voi per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti